Sit-in giovedì 15 alle ore 10 davanti l'ufficio per la ricostruzione, qual è il motivo? Il motivo è questo, intanto l'associazione Robin Hood raccoglie le elementere, le stanze di soggetti diversi e diciamo si è fatta promotrice di questo sit-in insieme ad altri soggetti che si terrà proprio sotto l'ufficio di ricostruzione perché il problema sono questi uffici di ricostruzione abruzzesi che vanno molto a rilento, teniamo conto così come abbiamo detto in altre circostanze che ci sono centinaia e centinaia di cittadini che sono fuori dalle proprie abitazioni con costi per la collettività perché li paghiamo gli alberghi, li paghiamo l'autonomo sistemazione ci sono imprese che devono lavorare e che sono bloccate al palo perché se i progetti non vengono approvati non possono iniziare a lavorare, questi soldi che devono arrivare se non vengono approvati i progetti non arrivano e di conseguenza anche i tecnici Tempistiche molto differenti rispetto alle vicine Marche? Ecco, noi abbiamo portato a paragone la regione Marche dove la partita non c'è partita nel senso che i dati sono talmente differenti che che ne dica l'assessore Mazzocca che non c'è veramente partita. Quindi partendo da questa situazione qui, partendo dall'elementare dell'ufficio perché l'ufficio dice che ci sono problematiche di comunicazione e altre cose, noi faremo in questo sitino non solo un'azione così molto pacifica di protesta ma daremo delle indicazioni utili agli uffici per andare avanti con anche la messa a disposizione da parte dei tecnici di ulteriore lavoro da parte loro affinché tutto quanto proceda al meglio e velocemente.